Sì, buongiorno, io mi chiamo Marcello Scaccia e avevo molti problemi riguardo i miei denti perché la maggior parte dei denti anteriore erano tutti consumati. Allora tramite un collega mi ha indirizzato dentissimi in Ungheria. Io sono andato lì all'ANA, c'era tutta l'acquipia dei professori, ai quali mi hanno indirizzato, mi hanno fatto la panoramica e mi hanno detto il lavoro che c'era da fare. Io ho consentito perché ho visto anche il risparmio, perché Merano era il doppio, qui in Ungheria era la metà e sono molto soddisfatto, sono venuto qui per 3-4 volte. La prima volta non si paga, anche la stanza e tutto quanto, la colazione, mi sono trovato molto bene. Dopo sono ritornato e normalmente mi hanno prescelto un altro tipo di appartamentino. Sono contento, soddisfatto e ora che sono 5 giorni che sono qui, normalmente da domenica finora che oggi è il 23, mi hanno messo i 13 denti col ponte mancanti, normalmente perché erano tutti consumati. Oggi ultimato mi pare di rivivere. Sono molto contento e ringrazio i dentissimi. Con molta probabilità vi farò molta propaganda perché lo meritate. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.